Sembra che Chris Martin non riesca a resistere alle bionde che abbiano vinto un Oscar. Il frontman dei Coldplay ed ex marito di Gvinet Patrova è stato avvicinato dai rumors delle ultime ore a Carlizia e Theron. A far emergere la notizia sono i giornali americani Rider Online e Closer, che ha riportato la notizia affermando. Lui crede che lei sia una delle donne più ottrendi al mondo e avrebbe intenzione di approfondire il rapporto che li lega. D'altronde Martin deve aver ampiamente superato il momento di crisi che lo ha colpito dopo la fine della storia con la Patrova, una delle più longeve nel mondo dello spettacolo degli ultimi anni ed è quindi pronto a gettarsi in un nuovo rapporto. Non c'è alcun segnale che dimostri di fatto un avvicinamento tra il cantante e l'ex di Sean Penn, eppure non è escluso del tutto che la cosa possa essere vera, a fronte di un rapporto che li lega da anni. Chris Martin e Carlizze Theron sono infatti amici di vecchia data proprio a causa di Gvinet Paltrova e l'indiscrezione si condisce di un altro particolare che tende, in qualche modo, a confermarla. Martin avrebbe scritto ed eseguito una canzone speciale per Carlizze in occasione di una cerimonia di beneficenza che lei ha condotto in California all'inizio di quest'anno. Nel testo diceva lo scopo di questa canzone è dirti quanto ti adori. Mica poco. Nel frattempo il rapporto tra Chris Martin e Gvinet Paltrova, dopo un logico allontanamento dovuto all'esigenza di abituarsi a stare da soli, si è trasformato in qualcosa di molto speciale, come spesso i due hanno raccontato. Si vogliono un bene fraterno e riescono, grazie a questo affetto che li lega, a garantire ai figli che hanno avuto insieme tutto il meglio. Il peggio è passato, la tempesta è alle spalle ed ora entrambi stanno tentando di ricostruirsi una vita sentimentale. Chi se ne frega!